E si è arrivati al voto di fiducia sulla legge di bilancio. Una cosa surreale. Cosa pensate del governo di centrodestra, o meglio, della destra? È veramente così incapace come appare? Oggi sono passato alla Camera dei Deputati, ho salutato alcuni parlamentari, parlamentari donne soprattutto, che ho visto degli amici dei 5 Stelle, molto impegnate nella Commissione Bilancio, hanno fatto le nottate in Commissione Bilancio e mi hanno raccontato direttamente quello che già leggevo, cioè un governo che non è riuscito a gestire una legge importante come una legge di bilancio. Qual è il risultato? Il risultato è che probabilmente voteranno domani mattina verso le 6 e le 7, perché alle 19 è riconvocata l'Aula di Montecitorio, inizieranno i lavori per le dichiarazioni di voto, poi alle 20 e 30 il voto di fiducia. Voto di fiducia che significa che sono tutti chiamati a esprimersi non a poter votare singoli emendamenti, ma si dovrà votare in blocco. Un voto di fiducia fatto dal centrodestra non tanto contro le opposizioni, ma perché loro hanno paura dei loro parlamentari, perché il provvedimento è così sgangherato e la manovra è così una manovra di pazzi che, devo dire, assolutamente non è condivisibile nemmeno da quelli del centrodestra. Quindi loro per la paura che alcuni centrodestra potevano votare degli emendamenti hanno messo il voto di fiducia. Intanto il sondaggio di oggi di noto sondaggi che vi ho pubblicato, è il sondaggio dato a porta a porta, quindi un sondaggio ufficiale fatto da quello che è l'istituto di sondaggi che fa i sondaggi durante la campagna elettorale, cosa ha detto? Che i 5 Stelle hanno superato il 18% dei voti, il PD resta incollato ben sotto, attorno al 16, ma soprattutto la Meloni e il centrodestra iniziano a perdere anche il consenso nei sondaggi, perché quello che fanno è talmente esagerato che perfino gli elettori di destra iniziano a capire che questo governo è un manicomio. Quindi la domanda è se questo governo secondo voi è il governo più pazzo del mondo, è un manicomio, riesce invece a funzionare o siamo di fronte a una specie di sceneggiata? Ma mentre la sceneggiata diverte, questa poiché incide sulla vita delle persone è invece una cosa estremamente preoccupante. E veniamo addirittura al reddito di cittadinanza, avete visto il reddito di cittadinanza? Hanno sbagliato a scrivere l'emendamento, perché hanno cercato di togliere il fatto che l'offerta deve essere congrua, cioè uno ha il reddito perché non ha altri redditi, è povero e quindi lo Stato deve aiutare, perfetto. Ovviamente se gli fa un'offerta giusta di lavoro è normale che la deve accettare, altrimenti viene revocato. Ma se l'offerta è un lavoro a 2000 km di distanza è una cosa congrua o no? È una cosa sballata. Allora hanno scritto un emendamento, l'hanno scritto male, alla fine non sono riusciti nemmeno a far capire nulla di questo intervento. Quindi loro danno un segnale contro le persone più povere senza far capire che cosa fare. Per di più continuano a dire che sono i giovani, i giovani non vogliono lavorare, ma sapete quanti giovani prendono il reddito di cittadinanza? 50.000 su un milione! E quindi se di questi 50.000 giovani magari si lavora per trasmettere veramente i profili di queste giovani alle agenzie del lavoro, ai centri dell'impiego ma anche agli altri agenzie, magari si cerca un lavoro serio però in una zona ragionevole. Per esempio ieri una di queste realtà che gestisce i vari lavori interinali diceva che in Italia c'è bisogno di circa 3.000 persone per cablare l'Italia, per la messa a terra, per cercare di migliorare la digitalizzazione. Ma allora perché la Meloni del governo non si preoccupano con il Ministro del Lavoro di far capire e di trovare le opportunità per questi 50.000 giovani che ricevono il reddito che se tu gli proponi un lavoro ragionevole, non un lavoro folle, ovviamente sono favorevoli. E poi abbiamo ancora Durigon che si dovette dimettere perché aveva fatto un sacco di guai, si dovette dimettere il Vice Ministro, il Sottosegretario della Lega Nord, che però sta al sud nel Lazio lui, che dice che ci sono tanti lavori che gli italiani non vogliono e che fanno i migranti. Sapete perché li fanno? Perché stanno nei campi i migranti, in quei campi, una specie di strutture, di baraccopoli e vengono pagati in modo scandaloso dai caporali. Ma è questa la proposta di lavoro che vuole dare Durigon agli italiani? Ah, quando mettete la maglietta prima agli italiani, questo vuol dire complimenti. Cioè nel senso, invece di aiutare a cercare di fare lavoro regolare anche per gli immigrati, noi usiamo come esempio, loro usano come esempio, loro usano come esempio il lavoro che fanno i migranti, sottopagato al lavoro nero, come esempio di quello che dicono, ma perché questi invece del reddito non vanno a fare il lavoro nero? Ma di che cosa stanno parlando? Ma dove vivono? In quale empire o in quale posto lontano dalla gente comune vivono queste persone? Ma può essere che la risposta di un sottosegretario che si deve occupare di dare lavoro qualificato, non lavoro nero? E' quella di dire, ma guardate, i migranti accettano qualunque lavoro perché gli italiani no. E allora toglietelo prima agli italiani, dite prima i fatti nostri e prima le cose nostre, non ce ne importa niente dei cittadini. Allora basta. E ripeto, oggi il sondaggio di noto, dato ieri poi a porta a porta, che vede ancora una conquista più avanti di Giuseppe Conte e io ho detto oggi, io faccio i complimenti a Conte e sono orgoglioso di sostenerlo. La gente dice, ma come mai lo sostiene? Ma chi dovrei sostenere? Cioè io per anni ho fatto l'ambientalista, ho cercato di fare in modo che questo paese fosse un paese serio, ho combattuto il mal governo, il mal costume che è una vergogna atavica di molte zone. E' ovvio che vedo in Conte il possibile leader di un'area eco-progressista, quindi ecologista è progressista, dalla parte dell'ambiente dei più debole. E' così complicato capire perché uno sostiene Conte? Non mi sembra complicato. E allora io credo che dobbiamo lavorare con fermezza, sto guardando anche quello che mi state scrivendo al frattempo, in Germania affiancano un tutor a ragione, dice Maria Teresa, un tutor al giovane per far capire che cosa potegli far fare. Ma sì, perché l'obiettivo è queste persone che non hanno un lavoro, tu li cerchi di aiutare per cercare di trovare un lavoro. Questo è il compito dello Stato, non insultare le persone. Ma può mai essere che un giorno Salvini insulta quelli che vogliono pagare con il post, che vogliono pagare con la carta di credito. Un altro giorno questo insulta i giovani. Ma che è modo di fare? E quindi perché io sono orgoglioso di sostanere Conte? Perché è una persona per bene. Perché uno, tra l'altro, che non ha perso la testa? Perché guardate, questo ha fatto il Presidente del Consiglio, in due governi. Era un avvocato. La prima volta della sua attività politica è stata Presidente del Consiglio. Guardate che è importante mantenere una certa... Vi ricordate Renzi che ha combinato? Renzi era stato Presidente di Provincia, Sindaco di Firenze, eppure ha perso la testa quando è tenato Presidente del Consiglio, ha sbroccato. E devo dire che è rimasto sbroccato. Che pensate voi? È ancora sbroccato Renzi? Io penso un pochetto, sì. Per le cose che dice, che fa. Un giorno i complimenti a Berlusconi, un altro giorno la stampella della Meloni, insieme al giusto compare che è calenda. Ma lasciamo stare ora il caso Renzi. Conte ha mantenuto un equilibrio da Presidente del Consiglio. Dopodiché è stato massacrato, attaccato a tutte le lobby nazionali e internazionali. Renzi ha fatto il possibile per farlo fuori in tutti i modi. Però si è rimboccato le mani. Ha deciso di accettare una sfida complicatissima, che era quella di rilanciare il Movimento 5 Stelle, che era in una profonda crisi. Il Movimento 5 Stelle l'era dato nei sondaggi sotto il 10%. Il sondaggio di ieri, quello che vi ho dato oggi, sta al 18%. Ha praticamente raddoppiato i voti, almeno nei sondaggi, ma di fatto anche alle elezioni dove ha avuto un grande risultato, di un Movimento che aveva avuto varie fasi e grandi difficoltà, obiettivamente. Perché andare a governare senza avere una classe organizzata, con tante difficoltà, dovendo fare compromessi con partiti assurdi, perché il Movimento 5 Stelle ha governato con la Lega, che era una cosa da pazzi, anche portando a casa dei risultati, perché il reddito, la prima versione, l'ha approvata, nonostante che ci fosse la Lega, che era contrarissima. Quindi figuratevi. Detto questo, Conte prende questo incarico complicatissimo. Io l'ho detto fino all'inizio, ho detto che è più complicato questo che non fare il Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio ha una grande struttura organizzata, ha migliaia di funzionari, ha direzione generale, ha risorse. Ovviamente devi essere anche bravo, però hai una struttura. Riorganizzare il Movimento 5 Stelle, che era una difficoltà notevole, che era per natura sua un movimento, senza una sede, hanno dovuto prendere una sede, ha cercato di rimettere in moto questo. È un lavoro veramente complesso. E poi passare dalla Presidenza del Consiglio a fare prima un appoggio esterno a un governo che gli faceva la guerra, perché il governo Draghi cercava di screditare le cose fatte da Conte. Diciamoci le cose come stanno. O non è così? Mi sbaglio? È una mia impressione? O condividete che c'era un accanimento continuo? Dopodiché passi a fare il leader dell'opposizione. Fai una campagna elettorale precipitata in modo assurdo con una legge elettorale che fa schifo, con una legge elettorale che non aiuta, con il PD che appena ha detto cose normali, come i nove punti che ha dato a Draghi, dicendo difendiamo il reggio di cittadinanza, difendiamo il super bonus, parliamo di ecologia, evitiamo gli inceneritori e facciamo l'economia circolare. Appena ha detto questo è sembrato che avesse sganciato una bomba. Hanno iniziato ad attaccarlo frontalmente, è uscita la cosiddetta agenda Draghi e il primo che l'ha coltellato, dopo che già era stato accoltellato da Renzi per far cadere il Conte 2, è stato il Letta, che è la prima cosa che ha fatto, l'ha scaricato, ha detto questo è una cosa gravissima, è andato dall'amico Calenda e ha portato al tracollo il PD e ha fatto vincere l'elezione alla Meloni pur senza avere una maggioranza assoluta, perché Meloni non ha avuto la maggioranza assoluta, non ha avuto tutti questi voti che si aspettavano all'inizio del centrodestra, ma per la divisione, la rottura, perché Renzi non ha accettato la leadership di Conte, che era invece quella che loro dovevano accettare e che aveva proposto Zingaretti appena usciti da Palazzo Chigi col Conte 2. È Zingaretti che disse che Conte dovesse il leader di una coalizione ecologista e progressista. Vi ricordate Conte fuori Palazzo Chigi che disse io voglio fare una grande... questo è stato. Oggi si trova a fare il leader dell'opposizione per la prima volta in vita sua il deputato e sta andando sempre nelle commissioni a incoraggiare e sostenere e collaborare con i deputati del 5 Stelle a cercare di arginare i guai. Hanno evitato il condono agli evasori, per errore anche degli altri cercheremo, spero, di limitare i danni su altre norme, ma a fare il suo lavoro. È questo che stanno premiando gli elettori nel sondaggio. Questo, una posizione rigorosa, mentre il PD non si capisce dove sta. Mentre il PD sulla pace non si capisce dove sta. La marcia della pace, Conte va con l'Arci, con la CGL, con i Vescovi, con le associazioni, il PD defilato, passeggia al lato della manifestazione. Ma che modo di fare? E allora noi dobbiamo sostenere il lavoro che Conte sta facendo per questo. Io per questo lo sostengo. La gente dice ma come tu sei l'unico che fa le dirette a sostegno di Conte ogni volta? Certo! Perché mi sento nell'animo che bisogna organizzare l'alternativa a questa destra, che è un disastro. Non perché è destra. Io chiaramente non so di destra, quindi non mi piace qui la destra. Però detto questo ci sono destre anche in Europa. La Merck era un governo di destra, ma ha fatto le auto elettriche, ha potenziato il reddito di cittadinanza, ha fatto delle scelte di una destra moderata e civile. Questi che fanno? Distruggono il reddito di cittadinanza, tolgono il super bonus, cercano di dare addirittura uno strappo anche al fatto che puoi pagare con la carta di credito. Tolgono e riducono le tasse sui redditi da capitale, fanno una finanziaria che tagliano soldi alla scuola, alla sanità, ma è evidente che non è questione solo di destra, è questione di una sbagliata capacità di governare. Quindi la mia domanda, secondo voi si devono dimettere o no? Se non sono in grado nemmeno di fare al primo giro, dopo due mesi, una legge di bilancio decente, significa che non sono pronti per governare. Poi non so cosa viene dopo, può darsi pure che viene un governo peggio, non lo so, però mi sembra difficile. Dopo quello dei peggiori, credo che possiamo sperare che il Paese possa meritare un po' di meglio. Sicuramente intanto Conte, con questa conferma del consenso dei cittadini, ha il dovere e il diritto di costruire l'alternativa alla destra e secondo me lo può fare bene. Quindi io vi chiedo di rilanciare con forza anche questo sondaggio, queste notizie, perché dobbiamo incoraggiare la gente che sostiene Conte, dobbiamo incoraggiarla con forza, con energia e quindi lavoriamo in questa direzione. Andiamo verso una transizione ecologica e digitale, facciamo in modo che ci sia ambiente e solidarietà al centro di quelle cose da fare e lavoriamo con tenacia e sosteniamo quei parlamentari che stanno facendo un grande lavoro. Vi ripeto, veramente, non dico i nomi perché sembra che poi uno dice buono uno, buono un altro, no, io ne ho visti e le ho visti veramente pancia a terra, come si dice in gergo, a stare di notte, a lavorare, a insistere, a cercare in questo mondo difficile di fare bene il proprio dovere. Quindi lavoriamo anche noi come cittadini e come attivisti, ho sempre detto che sono un attivista, nei giorni scorsi cercano di tirarmi in ballo per candidature. Io ho fatto tante cose, credo di averle fatte con onore, nel senso che ho giurato due volte da Ministro della Repubblica e che avrei onorato lo Stato. L'ho fatto, quando feci l'agricoltura ho tolto gli OGM, ho aiutato il biologico, ho detto all'ambasciatore americano che gli OGM in Italia non ci sarebbero stati e non ci sono stati, come adesso dico che non avremo cibi sintetici perché vogliamo roba genuina. E anzi, in questi giorni, proprio oggi, ho dovuto rilanciare una cosa perché faccio i complimenti ai NAS, i carabinieri, che hanno sequestrato sette tonnellate di dolci contraffatti tra cui tantissimi panettoni finti e artigianali e ho detto che noi dobbiamo lavorare a tutelare i prodotti davvero tipici del nostro Paese. Questo anche qua con l'uso del digitale, con le certificazioni, perché siamo un grande Paese che può fare grandi cose. Quindi le cose da fare si possono fare e come dicevo, l'ho fatto da Ministro dell'Agricoltura, l'ho rifatto con molta più fatica da Ministro dell'Ambiente perché le lobby erano diventate ancora più aggressive, arroganti e poi la lobby dei fossili e quella degli inceneritori e quelli dei cementificatori e anche quelli dei cacciatori, stiamo ancora di fronte al fatto che hanno fatto e insistono su un emendamento per poter fare caccia ai cinghiali o altro nelle città, con il rischio che diffondono le armi e possono ammazzare qualcuno. Ma sono pazzi? Peraltro, poiché abbiamo cambiato la Costituzione a febbraio dell'anno scorso e bisogna tutelare la biodiversità e gli ecosistemi, quella norma è incostituzionale. E quindi io chiedo a tutti i parlamentari che lo vogliono fare che se passa si ricorra alla Corte Costituzionale per far bocciare una legge sbagliata. Peraltro anche l'Unione Europea potrebbe bocciarla. Quindi lavoriamo con forza, intanto vi faccio già il primo augurio di buone feste, speriamo che faccia un in bocca al lupo ovviamente a tutti i parlamentari che faranno la nottata, io ne ho fatte tante, devo dire, di nottate perché succedeva anche questo, però non succedeva mai che la ragioneria chiedesse di cambiare 44 emendamenti, che la Banca d'Italia bocciasse la legge di bilancio, veramente quello che ho visto in questa legge di bilancio, io che ho fatto il parlamentare, non l'ho mai visto. Quindi lavoriamo a fare le cose bene perché le cose bene si possono fare. Costa più fatica, ti fai nemici ma devi andare fino in fondo. E vi ricordo sempre che quelli che vogliono seguire, essere più informati su queste cose che facciamo, possono aderire al gruppo che ha fatto Anselmo, che è il responsabile giovane, un under 30 responsabile dell'associazione Italia Eco Digital, il gruppo che si chiama Eco Digital verso il 2050 e anche, se volete, il sito www.ecodigital.it. Il motivo? Vogliamo aiutare a costruire una rete di persone che sostengano in positivo la transizione ecologica e digitale e aiutino chi ha portato in Italia i soldi della transizione ecologica e digitale, che è stato proprio Giuseppe Conte, a fare in modo che quei soldi non vengano buttati o, peggio, rubati. Noi dobbiamo fare in modo che con quei soldi creiamo lavoro e benessere per il nostro Paese. Buona serata a tutti, ciao!